Buongiorno a tutti e ringrazio il professor Iandolo e l'Università Europea di Madrid per questa opportunità. Sono molto felice di presentare a questa giornata di studio la realtà che coordino che è Cascina Rossago. Ok, prossima diapositiva. Cascina Rossago nasce nel 2002 come struttura pilota in Italia, studiata specificamente per giovani adulti con autismo sull'esempio delle farm community francesi e tedesche. Cascina Rossago nasce nel 2002 come struttura pilota in Italia e studiata specificamente per i giovani adulti con autismo, tomando come modello le farm community francese e alemane. È stata realizzata dalla Fondazione Genitori per Autismo in collaborazione con il Laboratorio Autismo dell'Università di Pavia, riorganizzando un'azienda agricola dismessa sulle colline dell'Oltrepo Pavese in Lombardia. La Fondazione Pares per l'autismo in collaborazione con il Laboratorio Autismo dell'Università di Pavia ha ritomato una impresa agraria abbandonata e la collina smassaglia del rio Po e la provincia di Pavia e Lombardia. Oggi Cascina Rossago si colloca nelle unità d'offerta per la disabilità di Regione Lombardia come RSD, residenza sociosanitaria per persone disabili, mantenendo la peculiarità di accogliere persone con autismo. Oggi Cascina Rossago è una residenza sociosanitaria per persone con diversità funzionale della Regione Lombardia, cioè una residenza sociosanitaria per persone con diversità funzionale marcata, guardando la caratteristica di accogliere persone adulte con trastorno del rispetto dell'autismo. L'ente gestore e proprietario è la Fondazione Genitori per l'autismo e l'ente erogatore del servizio è la Cooperativa Sociale Marta, a cui appartiene tutto il personale che lavora a Cascina Rossago. L'entità gestore è la Fondazione Pares per l'autismo, mentre che l'entità concedente è la Cooperativa Sociale Marta, da cui vengono i professionali che lavorano a Cascina Rossago. Ok, prossima. Allora, chi sono gli abitanti di Cascina Rossago? A Cascina Rossago vivono 24 persone, 6 donne e 18 uomini, con un autismo severo di livello 3, se pensiamo alla relazione passata, scorsa, con disabilità intellettiva e molte comorbidità, soprattutto l'epilessia. Chi vive in Cascina Rossago? Attualmente vivono 24 persone, 6 donne e 18 uomini, con un autismo severo di livello 3, se seguiamo con la presentazione precedente. E tutti hanno discapacità intellettuale e molte comorbidità, e in particolare l'epilessia. La struttura è costituita da tre unità abitative ed è strutturata intenzionalmente in modo non istituzionale, ma come una casa. La struttura fisica è composta da tre viviendas, con un'organizzazione non istituzionale, sino più o meno familiare, con otto plazze cada una. Ci sono tre palazzine, appunto da otto posti, poi ci sono molti laboratori, degli uffici, delle aree di servizio, la stalla e molti altri fabbricati agricoli. Hai tre edifici che componen fisicamente Cascina Rossago, con otto plazze cada una, ademà di molti taglieri, oficini, zona di servizio, graneros e altri edifici agricoli. Ok, prossima slide. Da chi è composta l'equip multiprofessionale di Cascina Rossago? Chi è composta l'equipo di Cascina Rossago? È composta da un coordinatore pedagogico, da due medici, uno di medicina generale e uno psichiatra che afferisce al laboratorio autismo dell'Università di Pavia. Hai un coordinatore pedagogico, dosmetico, sì, un psichiatra che è miembro del laboratorio di autismo dell'Università di Pavia. E poi dagli educatori, i riabilitatori psichiatrici, terapisti occupazionali e operatori sociosanitari. Nella nostra equipe hanno una funzione importante anche i maestri d'opera perché sono le persone che insegnano il lavoro ai ragazzi. In particolare hanno un ruolo fondamentale che insegnano i maestri d'opera, è a dire, i che insegnano la professione, il lavoro diario, ai usuari di Cascina Rossago. Cascina Rossago è anche sede di tirocinio universitario dell'Università di Pavia e degli studenti dei master dell'Università di Trento e dell'Università di Genova. Quindi Cascina Rossago è sede di pratiche universitarie dell'Università di Pavia, degli tecnici di riabilitazione psichiatrica, però anche dell'Università di Genova e dell'Università di Trento in sui master sui trasporti riscattori dell'autismo. Ecco, il legame anche con il laboratorio autismo dell'Università di Pavia fa sì che Cascina Rossago sia anche un centro di ricerca per l'autismo. In particolare la relazione con il laboratorio di autismo dell'Università di Pavia permette che Cascina Rossago sia anche un centro di investigazione specifico sull'autismo. Ci sono anche dei volontari che partecipano alla vita di Cascina Rossago. E in particolare un'esperienza di volontariato di cui vi parlerò più avanti è quella dell'Orchestra Invisibile, un'orchestra composta dai ragazzi di Cascina Rossago e dai medici e specializzanti della Facoltà di Medicina e Psichiatria dell'Università di Pavia. In particolare il lavoro di volontariato è specialmente rilevante ma poi vi presentare l'esperienza dell'Orchestra Invisibile che sta composta per professionali sanitario, medici, psichiatri, lavoratori sanitario dell'Università di Pavia, del Laboratorio di Autismo dell'Università di Pavia e diversi professori e dell'Università di Cascina Rossago. Ok, prossima. L'intervento medico-infermieristico, l'intervento educativo e assistenziale sono in costante connessione. La intervento medico-educativo e assistenziale sta in costante interconnessione. Questo avviene attraverso delle riunioni quotidiane, delle supervisioni individuali e di gruppo e soprattutto con momenti di formazione. E questa interconnessione socio-sanitaria ed educativa si realizza attraverso di riunioni diarie, supervisioni individuali e gruppali, così come momenti di formazione. Cascina Rossago è nata proprio come un vero e proprio progetto di vita per le persone che vi abitano e il focus del nostro lavoro è proprio quello di valorizzare la soggettività di ciascuno anche se le condizioni sono di estrema fragilità. Cascina Rossago ha surgito come proietto di vita, quindi è il focus principale di dare valore a cada persona come individuo unico considerando su fragilità. Quindi tutto passa attraverso un'attenta osservazione della persona e del gruppo, l'utilizzo dell'analisi funzionale, la costruzione di un contesto adeguato e la gestione dei comportamenti problema avviene prima da un punto di vista educativo e in seguito con una presa in carico farmacologica. il primo passo è sempre quello però di garantire un contesto che sia adatto e un intervento educativo adeguato. Alla intervenzione e la planificazione delle attività si realizzano tenendo in considerazione l'analisi funzional che causa una conducta e una conducta problema si surgiera. In particolare, quando si hable di gestione di conduttori problematiche in Caxina-Rossago, si trabaja a través di observazione, di debate e si intenta a entendere le cause del malestà prima di arrivare a una intervenzione farmacologica. Cioè, prima di arrivare per la questione di conduttori problematiche sulla terapia farmacologica, si cuida antes la struttura che sta al redor, si previene dei stimoli e si trabaja sobre l'ambiente. Ecco, grande importanza all'interno della presa in carico di Caxina-Rossago non è solo quella dell'utente, della persona che vive a Caxina, ma anche della sua famiglia. Quindi, attraverso anche qui colloqui, incontri, formazioni e partecipazioni a gruppi genitori. Il proietto di vita di Caxina-Rossago con los usuarios adultos contro il salone rispetto dell'autismo implica anche che Caxina-Rossago se siga alle famiglie. Quindi si fanno un'intervista, si fanno un gruppo con i padri e questo è parte dell'attività di Caxina-Rossago. Ok, la prossima. Come vi ho detto, Caxina-Rossago è stato un luogo molto pensato, perché il tempo di gestazione di pensiero è stato lungo. Il laboratorio autismo ha avuto una grande funzione nella fase che ha preceduto la nascita di questa struttura. La creazione di Caxina-Rossago ha sido preferita per un amplio periodo di riflessione. Quando sorgì nel 2002, molti anni prima si aveva pensato e la portazione del laboratorio di autismo dell'Università di Pavia ha contribuito molto a questo pensamento sopra come strutturare questa realità prima di ripetarla. Quindi con una grande attenzione alla ricerca di un contesto adatto, un contesto semplice, rurale, ma ricco di stimoli e soprattutto di proposte e di attività che fossero comprensibili per le persone con autismo e significative, come quelle che si svolgono in campagna e che possono diventare utili al bene della comunità che è Caxina. Quindi quando si pensò Caxina-Rossago si pensò in un contesto semplice, comprensibile, previsibile, però ricco di stimoli per le persone adulte con TEA e che è meglio il contesto fino a un contesto rurale, una vita di campagna dove produrre e realizzare, lavorare in un entorno strutturato e simple. Quindi un contesto dotato di strutturazione, di stabilità, di costanza e di ritmicità. Quindi un contesto basato in stabilità, costanza, rutinas e strutturato, simple e con stimoli. Questo è declinato nella cornice organizzativa di Caxina-Rossago ma è anche declinato all'interno delle proposte educative che vengono fatte. E il sospettivo di stabilità, costanza, rutina e struttura è tanto in tutta la struttura di Caxina-Rossago come le attività individuali che cada giorno si sviluppano. Ok, la prossima. Un contesto dedicato alle persone con autismo tiene conto del loro atipico funzionamento mentale e dalle loro caratteristiche di fragilità che sono appunto le difficoltà di coerenza centrale, la difficoltà di comunicazione, la necessità di sameness, quindi di qualcosa che si ripete anche quotidianamente e la difficoltà anche sociale o di stabilire delle comunicazioni significative. Ma questo è stato appunto anche spiegato molto bene nella relazione precedente per cui non mi soffermo. Un contesto dedicato alle persone con autismo tiene in cuenta il funzionamento mentale autipico. Quindi la presentazione ha parlato delle difficoltà di coerenza centrale, della comunicazione, di repetitività e poi la sensibilità per lo che non mi voglio estendere per questo tema. Ecco, sottolineo solo che proprio in virtù di tutto questo è molto importante che gli operatori siano costantemente formati e motivati. Subraio che tenendo in cuenta tutte queste peculiarità del trastorno rispetto all'autismo, chi trabaja con l'autismo tiene che tenere un profondo conoscimento teorico e pratico e una buona motivazione, una gran motivazione visto le peculiarità. Ecco, un contesto rigido però deve essere un contesto anche capace di trasformarsi e di modularsi in base alle esigenze delle persone e al loro stato di benessere o di malessere. Sappiamo benissimo quanto ci sia anche una ciclicità nell'autismo e quindi le persone con autismo possono trascorrere dei tempi molto buoni anche di stabilità ma questa stabilità per qualsiasi motivo può poi non esserci in altri momenti e quindi occorre un po' ritornare sempre da capo. Quindi, sin embargo, il contesto non deve essere rigido sino capace di trasformarsi e ajustarsi según le situazioni e le exigenze. Sabiamo molto bene che chi vive con una persona con trascendore di autismo o trabaja con ella la persona segue certa ciclicità è a dire può passare un amplio periodo in cui è ben stabilizzato però dopo può esurgire sempre un imprevisto che crea un desequilibrio e una reazione problematica e quindi il contesto deve essere flessibile e comprendere la ciclicità adesso. Ok, la prossima. Ecco, questo è un esempio di un programma giornaliero che noi compiliamo e che vi fa vedere le attività che ci sono durante la giornata le persone che frequentano questa attività e gli operatori che conducono questa attività questo è un lavoro che noi facciamo sempre il giorno prima per il giorno dopo valutando appunto quello di cui vi parlavo prima e cioè lo stato di benessere o malessere dei ragazzi. A chi potei svere un programma diario che normalmente realizziamo il diante spara via l'espués potei svere le tavole le schine il lavoro eterna e questa planificazione per il giorno successivo si realizza sempre tenendo in considerazione il benessere dell'usuario e il suo stato di attivazione e in che fase si inquietra ok la prossima allora vi ho detto che appunto è stato un contesto pensato ma è stato proprio un contesto pensato per diventare adulti alcuni dei ragazzi di Cascina Rossago quando sono entrati circa vent'anni fa erano dei ragazzini oggi sono degli uomini e delle donne un rol central para convertirsi in adulto i ragazzi si riconoscono il lavoro che fanno loro si ritengono lo stagliere il ceramista il testitore e per diventare adulti ci sono dei passaggi che sono necessari e sono possibili anche in esistenza che hanno una grande fragilità quindi la separazione dalle figure genitoriali un'autonomia emotiva che loro raggiungono loro riconoscono Cascina Rossago come la loro casa e vivono qui senza i loro genitori che vedono nei weekend però per loro Cascina Rossago è la loro casa quindi riconoscersi in un ruolo dà anche a loro un ritorno di utilità e di grande stima e di senso della quotidianità e se le devolverono su suale un sentito dei quotidianità e se le devolve un'autonomia in questa quotidianità ok possiamo passare all'altra e il compito degli operatori che stanno a fianco ai ragazzi è proprio quello di sostenerli quotidianamente in questo passaggio e sostenere questo intervento ecologico che è caratterizzato da una costante connessione tra la cura delle abilità le motivazioni i desideri avendo sempre in mente il progetto di vita complessivo se la osservate attentamente vedete che c'è un'alternanza tra momenti di lavoro e pause e questo è funzionale proprio a sostenere la parte più fragile una parte di fragilità dell'autismo che sta proprio nel riuscire ad apprendere un'alternanza del turno e questo è una cosa molto importante dell'autismo la capacità di alternare il lavoro a pausas perché non solo rispetto all'autismo hai una difficoltà e l'alternanza dei turni questo invece è uno schema di tutte le proposte educative che abbiamo a Cascina Rossago questo è un schema di tutte le proposte educative che si realizzano in Cascina Rossago allora diciamo che la parte più importante riguarda il lavoro e i laboratori di telaio di ceramica della stalla e della appunto della cura della struttura in particolare oggi chiedo subrayare tre travagos che sono l'establo la esquila il travago di telar e il tagliare di ceramica soprattutto per quanto possiamo andare avanti con la prossima con la prossima ecco soprattutto per quanto riguarda la dimensione del lavoro l'attività centrale a Cascina Rossago è quella della stalla e dell'allevamento degli alpaca ne abbiamo circa una ventina l'attività centrale di Cascina Rossago è l'attività del stablo e la crianza dell'alpaca teniamo su uno sventi alpaca è un'attività che si svolge ogni giorno cioè appunto i ragazzi si occupano della cura degli animali dell'alimentazione della pulizia degli spazi ed è un'attività che non può essere rimandata perché gli animali hanno bisogno di loro e quindi produce anche in loro un grande senso di responsabilità gli aiuta proprio a maturare questa esperienza di responsabilità e di presa di incarico dell'animale una volta all'anno c'è il momento della tosa che è un momento particolarmente atteso dai ragazzi perché da un'altra regione dell'Italia vengono dei tosatori che stanno qui un paio di giorni e quindi tosano gli alpaca da cui noi ricaviamo la lana un momento importante all'alto dell'anno è il momento della esquila annuale ed è dire viene uno sprofessionale su una vetta all'anno e se dell'osa l'alpaca si produce la lana che si realizza servirà per il taglio di telare esatto quindi la lana poi viene utilizzata nel laboratorio di tessitura che è proprio collegato all'attività della stalla ed è concepito come la conclusione di un ciclo anche di attività che sono interconnesse tra loro e la lana che si deriva della esquila cerrarà un ciclo nel del trabacco di telare è dire hai un tagliere dove si tela questa lana e rappresenta il cierre di un ciclo non solo diario sino annuale delle attività di cascina ecco il setting del laboratorio di telaio ha molte valenze terapeutiche riabilitative proprio perché è un setting che li contiene e i movimenti sono molto regolari e alternati e le scenario la organizzazione del tagliere di telare tiene una valenza molto terapeutica nel che si tiene in considerazione sincronia sequenzia e tiene una valenza terapeutica molto importante di Pensada in ultima analisi produce un prodotto finito quindi sciarpe borse cuscini che poi vengono venduti ai mercatini in occasione di feste dei paesi che sono vicini a cascina rossago oppure anche tramite commesse che ci arrivano da privati e il prodotto final del trabacco di telare cascina rossago è creare bufandas bolsos materiali che si vendono negli pueblos alrededor di cascina rossago e anche non si llegano pedidos di varie parti d'Italia e anche l'attività agricola l'attività dell'orto è un'attività centrale proprio perché è scandita dal ritmo delle stagioni e contribuisce proprio a dare coerenza ordine prevedibilità e dà dei risultati concreti perché noi i prodotti dell'orto li utilizziamo nella nostra cucina per preparare i cibi che poi tutti insieme mangiamo come para il tagliere paratelare il trabacco nella huerta crea un ciclo diario annual in il che i prodotti che realizzano i usuari junto con i professionisti si consumano nella vita quotidiana nella comida nella cena di cascina rossago e rappresenta un'altra maniera di creare un sentito e produire qualcosa che tiene una finalità real come lo è il trabacco real ok prossima slide quindi ecco qui vedete un'operatrice insieme a un ragazzo proprio nel lavoro di stalla e in un lavoro nel laboratorio di creta e di ceramica a chi potrebbe sver un esempio di un cico o un usuario di cascina rossago nell'establo io lo trovo trabacando nel tagliere di ceramica il laboratorio di ceramica oltretutto è dotato di attrezzature molto particolari e molto professionali come l'impastatrice il tornio il forno che i ragazzi utilizzano con grande maestria sotto la guida proprio della maestra d'opera e producono dei manufatti che sono molto ricercati noi abbiamo un catalogo e le persone ci ordinano i manufatti che produciamo il tagliere di ceramica conta con maquinari professionali come mesclatura torno orno e come si può vedere nella foto l'usore sta apprendendo e sta desarrollando bajo la guia di una maestra di obra naturalmente tutti questi prodotti hanno certe solicitudine abbiamo un catalogo e si ordenano questi manufatti ok la prossima slide oltre alle proposte di lavoro noi abbiamo anche le proposte sportive le proposte motorie che avvengono soprattutto nella parte pomeridiana nella parte della mattina ci sono più le proposte di lavoro e poi nel pomeriggio c'è un tempo dedicato allo sport come podéis ver por la mañana se trabaja por la tarde hai una offerta di attività deportiva e di ocio terapeutico deportiva che sono di vari tipi e quindi attività di nuoto e di palestra e di basket che noi svolgevamo perché purtroppo con il covid questa parte è stata sospesa per ora quindi nelle piscine e nelle palestre anche qui di paesi di mitrofi per cui oltre a essere una buona occasione appunto per tenere in esercizio il corpo per canalizzare le energie anche delle persone giovani che sono qua è anche un'occasione per inserirsi sul territorio per essere inclusi quanto possibile nelle realtà sportive o nelle agenzie educative che il territorio mette a disposizione che si realizzano e le strutture dei aiutamenti alrededor sirven per incluirsi e esplorare entorni sociali lo massi inclusivo e nel territorio della Lombardia non dimentichiamo la nostra collocazione all'interno proprio della campagna della collina e quindi una collocazione che è assolutamente favorevole per l'attività di trekking e quindi il trekking come momento proprio di benessere per i ragazzi perché l'assenza di stimoli troppo disturbanti il silenzio della campagna abbiamo osservato quanto diminuiscano in loro sia le stereotipie che i comportamenti problema in particolare con adultos con trasporto dell'aspetto dell'autismo che sono usuari di cascina lo sago abbiamo visto che il senderismo è un'attività nel campo che favorece molto il benessare nella riduzione dell'attivazione degli usuari hai meno stimoli hai un'attività compartita e puoi riscargare attenzioni ecco ci tengo a sottolineare che attività che noi facciamo e che hanno anche uno scopo ludico recreativo però hanno sempre come fondamento di base il progetto educativo del ragazzo e del progetto di vita quindi sono tutte occasioni per andare a lavorare a lavorare a rafforzare gli aspetti di fragilità che riguardano l'autismo chiedo chiedo subrayar che le trasforma sparacad usuario è un progetto di vita e hai una planificazione individualizzata questo è trasversale a tutte le attività tanto laborali come ludico recreativa di socializzazione o deozio ok possiamo passare all'altra questa è l'esperienza dell'orchestra invisibile che vi avevo un po' accennato all'inizio questa è l'esperienza dell'orchestra invisibile che Iaos aveva anticipato al petino della ponentia cioè ogni venerdì i ragazzi di cascina suonavano perché anche per causa covid siamo in una parentesi di di sospensione tutti venerdì pomeriggio suonavano con gli specializzanti e il professor Politi dirigeva l'orchestra invisibile e tutti i giorni antes della pandemia l'orchestra invisibile composta por i usi di cascina Rossago i medici di specializzazione della Università di Pavia e dirige la orchestra il professor Politi che coordina il laboratorio dell'autismo dirige questa orchestra invisibile con volontarios sanitarios e usuarios allora il nome orchestra invisibile perché all'inizio di questa esperienza i ragazzi non riuscivano a suonare sul palco e a farsi vedere per cui i primi concerti jazz loro fanno musica jazz sono stati a palco vuoto perché i ragazzi suonavano dietro le quinte e il nome orchestra invisibile procede dall'eccio che inizialmente i chiusi non chiedono esibirsi con un pubblico delante per desagire il nome orchestra invisibile e toccano jazz e inizialmente si pubblicano oggi invece dopo un percorso che hanno fatto sono molto più sereni e molto più capaci di stare davanti a un pubblico e quindi abbiamo ci siamo esibiti in molti concerti in molte città italiane oggi dopo un processo largo in cui inizialmente rispettava questa difficoltà di esibirsi i ragazzi si hanno visto sempre ma scapacitati si hanno sentito su gusto e oggi possiamo toccare con l'orchestra invisibile in varie parti d'Italia ecco proprio oggi ricominciamo il percorso delle prove del venerdì pomeriggio siamo tutti vaccinati e quindi cominciamo ad aprire un po' la struttura giusto oggi volveremos a ritrovare l'orchestra invisibile dopo l'anno della pandemia siamo tutti vacunati e giusto oggi empezzeremo una progressiva abertura al mondo esterior la prossima ecco come termine delle nostre proposte vi faccio un breve accenno alle vacanze come per terminare la presentazione os hago referente a nostre vacanze come Cascina Rossego purtroppo purtroppo anche queste interrotte per il covid però un'esperienza molto importante per i ragazzi per gli operatori e per le famiglie le famiglie di Cascina Rossego stanno invecchiando e spesso molti genitori non riescono più a farsi carico di un lungo periodo di tempo con i loro figli e riescono a portarli a casa solo nel weekend quando è possibile Las vacanze per Cascina Rossego sono molto importanti la struttura in 2002 e significa che i usuari si cominciano a essere maggiori e le famiglie si hanno fatto maggiori le famiglie sono un momento importante per i usuari e una tradizione che le famiglie non possono portare a cabo come facevano con loro e quindi abbiamo iniziato a progetarle e a realizzarle con grande successo a pesar della difficoltà le famiglie vogliono che i i siano disfrutando delle vacazioni come quando lo facciano con loro nel passato e quindi hace molti anni che con le vacazioni sono una parte del ciclo anual molto importante per le famiglie e per gli usuari è un momento in cui i operatori e i ragazzi vivono in una dimensione diversa una dimensione meno rutinaria una dimensione di vacanza e questa è stata l'occasione per noi per osservare quante potenzialità ci siano nei ragazzi anche nell'affrontare dei cambiamenti se una cornice affettiva e di relazione forte significativa c'è con gli operatori e ho visto come la svacazione è stato un momento più importante e dove sperimentare una dimensione differente tanto per gli usuari come per gli professionali e abbiamo visto che se c'è un marco affettivo importante nel gruppo di professionale che adulti possono affrontare anche piccoli imprevisibili Quindi noi crediamo fortemente che le persone con autismo adulto, anche con una severa compromissione, possano fare delle cose strabilianti se sostenuti da una relazione forte. Quindi noi lo vediamo e lo crediamo e lo observiamo a diario che anche le persone adulte con un trastorno del rispetto del autismo marato, livello 3, possono affrontare le situazioni più oltre le loro competenze, se questa esperienza si sviluppa in un marco affettivo con le persone di referenza al reddito. Ok, la prossima. Ecco, non potevo non fare un accenno al periodo difficile che anche noi abbiamo trascorso, come tutto il mondo, in questo anno, davvero che nessuno avrebbe mai pensato di vivere. Quindi non potevo terminare parlando della Covid-19 e di questo periodo che tutti siamo compartiti, tanto in Cascina Rossano come con tutto il mondo, che adesso lo potevo preverso. C'è stato lo scorso anno un'interruzione improvvisa di tutte le nostre routine, di tutte le nostre abitudini, di tutte le nostre attività, soprattutto quelle all'esterno, perché quelle all'interno sono state mantenute. Ha avuto un'interruzione di tutte le nostre attività di Cascina Rossano, in particolare le nostre abitudini, le nostre abitudini, le abbiamo mantenute. I ragazzi non hanno più potuto vedere i loro genitori per un intero anno. Lossi usuari non hanno potuto avere lo spazio durante tutto questo anno. E hanno visto noi operatori con le mascherine sul volto, con i camici, vestiti in un modo assolutamente strano per loro. Hanno visto i operatori con le mascherine in un scenario inusuale per loro. Non è stato facile far comprendere loro che cosa stava accadendo, l'abbiamo fatto attraverso le immagini, attraverso racconti, attraverso storie sociali, ma per alcuni di loro ci sono stati dei momenti davvero difficili. Non è stato facile spiegarlo, abbiamo sottolineato le storie sociali, i pictogrammi, ma per alcuni usuari ha avuto un momento molto difficile. Abbiamo dovuto sostenere fortemente le famiglie in tutta questa situazione di grande angoscia per la paura che i loro figli si ammalassero. Alcuni genitori si sono ammalati, ammalati anche gravemente. E questo è stato davvero un carico di angoscia che abbiamo dovuto gestire tutti insieme. Abbiamo cercato delle alternative per tenere in contatto i ragazzi con le famiglie, quindi videotelefonate, invio di filmati, abbiamo prodotto anche proprio dei piccoli cortometraggi della vita di Cascina Rossago e lo inviavamo alla famiglia proprio per tenerci continuamente in connessione e in contatto con loro. Abbiamo ottenuto l'utilizzo della tecnologia, abbiamo promozionato le videollamate e abbiamo creato anche dei piccoli cortometraggi della vita dentro di Cascina Rossago per inviare alle famiglie, per mantenere questo vincolo, questo contatto, anche fisicamente i usuari e le famiglie stavano separati. Abbiamo notato che alcune persone, alcuni dei ragazzi di Cascina Rossago, con un grande bisogno di stabilità e anche con una facilità a sregolarsi emotivamente, il fatto di non vedere i genitori per lungo tempo e quindi di vivere una situazione molto molto stabile hanno avuto una sorta di beneficio perché hanno vissuto una dimensione più regolare e più stabile e hanno avuto meno sbalzi emotivi. Ha avuto certe cose positivi nella situazione perché il non contatto con la famiglia durante questo anno le ha, di alcuna maniera, responsabilizzato nella sua routine diaria e quindi meno cambios bruschi, anche se hanno sempre stato positivi con le famiglie, però in tutti i cambiamenti ha avuto più continuità di equilibrio. E abbiamo avuto comunque la possibilità di continuare le nostre attività fondamentali di lavoro e di piccole passeggiate proprio perché viviamo in un posto molto isolato. però abbiamo stato lavorando durante questi anni e abbiamo potuto dare un piccolo passeggio perché siamo isolati. Ok, la prossima slide. Ecco, vi saluto con un cartello che i ragazzi avevano dipinto proprio nei giorni più difficili. e pian piano stiamo riaprendo, appunto tutti siamo vaccinati e quindi ci auguriamo che nei prossimi mesi quindi la vita di Cascina Rossago riprenda con una sua attività, con la possibilità di essere sempre più, di ritornare a essere presenti sul territorio. E vi ricordo quali sono i principi cardine di Cascina Rossago, cioè una relazione forte e significativa con gli operatori, una promozione della vita adulta che passa attraverso un lavoro protetto ma un lavoro vero e il fare assieme che è un altro principio fondamentale di Cascina Rossago, cioè gli operatori non somministrano dei compiti ma lavorano insieme ai ragazzi. Sì, vi faccio con i tre principi che guiano Cascina Rossago, che è la importanza di una relazione forte con persone con trasporto al rispetto del autismo, la promozione del lavoro come un elemento fondamentale per essere adulti, il progetto di vita anche con persone con TEA, e il principio di essere juntos, cioè non un operatore o un professionale che ti dice lo che hai di fare, sino che junto con la persona si hace lo che si propone. Condividendone la fatica ma anche la gioia della quotidianità. Compartendo tanto il trabacco e il cansancio come la felicità della quotidianità. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto davvero con affetto. Moltissime grazie per l'attenzione e lo saluto con un gran abrazzo. Un abbraccio. Grazie. Grazie a tutti.